Noi ricordiamo Coby e Gianna Bryant e andiamo lì nella vicina, nella piazza, o meglio largo, Coby e Gianna Bryant con Ferruccio Landini e i suoi ospiti. Buongiorno. Buongiorno Susanna e buongiorno ai telespettatori. Sì, mi trovo proprio qua nella piazza di Coby Bryant per commemorare il suo terzo anno insieme a sua figlia Gianna della Scomparsa. Al mio fianco, che è appena arrivato di fianco a me, il presidente della Federazione Italiana Palacanestro, Davide Giudici, che lui ha avuto la grande fortuna perché ha giocato insieme a Coby per due anni in stessa squadra. Ma che carattere aveva Coby? Coby era molto determinato fin da bambino, è arrivato dove è arrivato perché lo ha voluto con tutto se stesso e in campo ovviamente era un pochino come l'abbiamo visto anche da grande, nel senso molto individualista, molto determinato appunto nel voler dimostrare di essere il migliore di tutti. Fuori dal campo era un ragazzo molto bravo, molto educato, molto tranquillo e è stato un bel compagno di squadra. Ecco, si vedeva già che era un atleta che sfondava. Lui ha avuto la fortuna dei superiori passare direttamente in NBA. Cosa vuol dire per un ragazzo fare un salto così? Beh, intanto più che la fortuna penso che abbia avuto il merito, nel senso che appunto lui veramente si è allenato probabilmente più di tutti e dal punto di vista fisico sicuramente era dotato perché essendo poi figlio di un ex giocatore NBA e di una mamma che era alta, almeno come me se non di più, insomma questo è stato sicuramente un bel vantaggio per lui. Però ha veramente bruciato le tappe, era un predestinato e fin dal suo primo anno in NBA ha dimostrato di poterci stare alla grande e anche lì non si è accontentato ma ha fatto di tutto per voler diventare il numero uno, cosa che poi si è avverata. Ecco, tu sei Presidente della Federazione Italiana Palacanestro, date delle, come si dice, agli allenatori, fate capire l'importanza di aver avuto un Kobe Bryant qua a Reggio Emilia per i loro giovani giocatori? Stiamo cercando di così, di tenere a vivo il ricordo di Kobe e sicuramente diciamo l'esempio che lui ha lasciato è proprio quello di voler raggiungere sempre gli obiettivi più alti possibili, ovviamente non tutti possono diventare campioni però se ogni giorno ci si impegna al massimo e si fa tutto per cercare di migliorarsi, piano piano i risultati arrivano e insomma io credo che sia stata una grande fortuna per la nostra città aver ospitato questo ragazzo per due anni e abbiamo avuto anche il merito di essergli rimasti nel cuore e quindi questo è ovviamente un onore ma anche un onore che ci deve spingere tutti a fare sempre meglio per tenere vivo anche il suo ricordo. A Reggio Emilia c'è un Kobe Bryant per il futuro? Speriamo, speriamo, il settore giovanile della palacanestro in primis sta lavorando bene come sempre anche le altre società devo dire più piccole diciamo hanno dei ragazzi molto talentuosi insomma è chiaro che un Kobe Bryant ne nasce uno ogni, non dico ogni secolo ma quasi. Ringraziamo il presidente della federazione italiana palacanestro di Reggio Emilia Davide Giudici ci ha aggiunto anche l'assessore allo sport la signora Raffaella Curioni che la chiamo immediatamente perché essendo indiretti non possiamo staccare da un intervento all'altro intanto la ringrazio della partecipazione e la classica domanda sono passati tre anni dalla scomparsa di Kobe e ancora vive però il suo ricordo? Vive il suo ricordo come dicono i bimbi, lui ci guarda, è invisibile ma ci guarda Reggio Emilia ha questo rapporto, questa relazione anche un po' straordinaria con lui lo sentiamo davvero un reggiano per sempre e ci piace pensare che questa città abbia anche qualcosa di lui e che lo spot reggiano abbia preso tanto da Kobe Bryant quindi è un festeggiamento in realtà anche in un momento molto triste però ci sono i bimbi che hanno fatto tantissimi bei disegni nel ricordarlo questo è il nido scuolo Tello Sarsi, lo ricordo che ha partecipato anche all'inaugurazione del Palabigi che è dedicato anche a lui perché c'è un bellissimo murale, se lo avevamo promesso e poi questa sera faremo questa bellissima iniziativa, io credo di due proiezioni uno alle 18, uno alle 21 per la città e nella proiezione delle 18 ci saranno tantissimi ragazzi e ragazze delle squadre giovanili di basket dove ci saranno tutte le interviste ai tanti reggiani che sono stati fatti perché questo docufilm è stato fatto anche a Reggio Emilia quindi credo che sia un momento importante di ricordo certamente ma anche di rilancio dell'importanza dello sport e dei grandi eroi che un po' lo sport l'hanno anche forse portato nel cuore delle persone Il luogo di questi documentari qual è? Lo faremo a Rosbad, al cinema Rosbad che è il cinema comunale e siamo molto contenti perché credo che sia anche questo un piccolo regalo che facciamo ai nostri cittadini, alle nostre cittadine per ricordare questo personaggio però davvero la cosa più bella è che Cobi lo troviamo un po' nei tanti campetti di basket della città lo troviamo in questa piazza, lo troviamo al Palabigi ogni volta che si gioca che gioca alla palla canestro reggiana in cui lui ha militato lo troviamo nelle scuole, questi bimbi hanno riscoperto un po' la figura di Cobi e di Gianna Brian hanno fatto dei bellissimi lavori quindi siamo molto contenti perché credo che questo sia un bel modo per ricordarlo e per ricordare lui e ricordare lo sport ringraziamo Raffaella Curioni assessore allo sport che ha dedicato due minuti anche per questa diretta adesso dovrei intervistare Mauro Rozzi ma vedo che non è ancora presente io posso solamente dire Susanna che ha avuto l'onore voi che intervistate i bambini certo, poi puoi intervistare con te la sessore oppure la signora Paone chi vuoi? ah va bene, allora teniamo commentato abbiamo molto tempo questa mattina per dedicare appunto spazio al ricordo di Cobi e Gianna Brian allora intervisto la pedagoga della scuola Otello Sarzi la signora Rita Lorena Paone ho indovinato hai indovinato una cosa importante pedagoga i ragazzi vedo che hanno fatto dei bellissimi quadri come siete riusciti? ma c'è da dire che ormai Cobi è diventato un amico dei bambini in tutta la celebrazione che c'è stata anche di riapertura del palazzetto di rinnovo del palazzetto loro hanno osservato in maniera molto ravvicinata gli street artists che hanno fatto il palazzetto quindi adesso siamo dentro questo percorso di conoscenza reciproca e adesso i bimbi hanno regalato dei ritratti per questa ricorrenza hanno visitato le mostre della biblioteca Panizzi faccia a faccia di Palazzo Magnani l'arte inquieta e quindi esplosa la stagione del ritratto quindi adesso si guardano e guardano gli altri attraverso il ritratto e quindi hanno deciso di ricordare Cobi Bryan oggi attraverso un ritratto suo e anche della figlia quindi è il nostro modo di lasciare un pensiero per questo giorno importante hanno accettato al 100% loro i bambini per realizzare questi quadri? assolutamente è un personaggio, uno sportivo comunque molto amato dei bambini la pallacanestro è uno sport sempre molto affascinante quindi hanno accettato molto di buon grado di ricordarlo oggi hanno fatto più quadretti le bambine o i bambini? allo stesso modo ognuno per un motivo non c'è stato uno sbilanciamento dei maschi no 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 e allo stesso modo hanno ricordato direi in maniera l'abbiamo proposto a tutti quindi hanno accettato tutti di buon grado eravate presenti anche all'inaugurazione del palazzetto? esatto eravamo presenti i bimbi come dicevo hanno osservato tutta l'opera di realizzazione dei murales e quindi sì eravamo anche noi presenti parte insomma di questo quartiere che sta prendendo di questo quartiere di questa strada che sta assumendo questa vocazione anche molto legata allo sport bene ringrazio anche la signora Rita Lorena Paone dobbiamo parlare con i bambini una battuta con i bambini no no molte battute perché sono lì per noi sono lì per noi ferruccio guarda sì li ho qua di fronte adesso giustamente le maestre me li chiamano intanto ecco che è già arrivata una bambina signora ti vorrebbe fare una domanda come ti chiami intanto? Bael e il tuo quadretto cosa rappresenta? beh a me credo che rappresenta un po' una specie di un disegno cosa rappresenta? ma è chi è che hai disegnato lì? ehm cosa avete disegnato? gli ho disegnato un signore del basket un signore del basket e cosa faceva lui? giocava a basket esatto e dopo anche era bravo era molto bravo vero? sì bene adesso prendiamo un bambino che era già venuto qua vicino al nostro al nostro microfono Nicolò 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 che ha giocato proprio domenica al palazzo dello sport e oggi mi sta dicendo l'assessore è anche il suo compleanno allora Nicolò il tuo dipinto qual è? me lo insegni? eh 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 adesso stiamo arrivando eh piano piano ah eccolo qua ritratto da Nicolò quinta A ti è piaciuto disegnarlo? cinque anni ah io ne ho fatto uno ah cinque anni non cinque hai cinque anni hai fatto questo bel dipinto ci hai messo molto per farlo? sì ma devi fare solo quello e basta ci hai messo pochissimo allora e che hai disegnato? ho disegnato chi è che hai disegnato? ehm ti ricordi il nome? Coby 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 Dye Coby Dye Coby Braian Coby Braian bravo a chi erano disegnati due? però tu ne hai disegnati ben due perché noi che cosa siamo adesso? cos'è che siamo? vogliamo diventare che cosa? degli? dei animati no degli artisti degli artisti noi siamo degli artisti anche io però adesso intervisto anche questa bambina Martino ma un bambino Martino quanti anni hai? cinque cinque anni mi indichi il tuo disegno? non ce l'ho ah non ce l'hai non ha fatto disegno è rimasto dentro abbiamo dovuto scegliere ah però cosa hai fatto però come disegno? qual è stato il tuo soggetto? del mio papà bene prendiamo chiamiamo anche una bambina Elena Elena quanti anni hai? cinque anni e il tuo dipinto è qua? il tuo disegno? no è rimasto su cosa hai disegnato? cosa hai disegnato? ti ricordi Elena? cosa hai disegnato? non mi ricordo non si ricordo ma scusate scusa Susana ma sai il microfono è l'emozione però scusami diciamo Lucia anche lui miracolo Lucia dimmi pure scusami Ferruccio Landini vediamo magari ci facciamo aiutare delle maestre che sulla la ginkgo biloba che ricordiamo è stata appunto posizionata lì proprio il ricordo di Kobe Bryant ha un significato molto importante questa pianta ci sono anche dei pensieri ce li potete leggere insieme all'insegnante guardate che meraviglia questa è una vera e propria installazione che hanno fatto i bambini adesso passo la tua domanda alla signora Rita Lorena mi stanno chiedendo dalla regia se potete leggere i pensieri dei bambini che sono cose abbastanza interessanti ma certo ma io lascio la parola anche alle insegnanti perché è giusto che allora l'insegnante di nome Nicole Nicole allora ha la maglia gialla è color oro e c'è il suo numero è un giocatore sta giocando a basket lo sai che lui ci guarda noi non lo vediamo è invisibile tiene la palla in mano e poi la butta dentro al gol lui adesso è diventato un angelo la sua casa sono le nuvole bellissimi pensieri fatti insieme ai bambini proprio messi nel momento giusto al posto giusto esatto esattamente dai bambini della sezione di scuola dell'infanzia 3, 4, 5 anni del nido scuolo te lo sarsi come hanno lavorato avete messo molto per fare questi pensieri no no è stata diciamo siccome stiamo lavorando con i bambini insomma sui ritratti no sulle grafiche di ritratti di persone ovviamente era l'occasione giusta no per sfruttare le nostre qualità come artisti no come si definiscono loro rispetto insomma alla grafica quindi questi insomma sono stati ritratti realizzati dalle bambine e dai bambini su Kobe e Gianna Bryant pensate di fare più o meno altri pensieri altri disegni su altri campioni reggiani vivi anche assolutamente sì cioè noi siamo ben contenti e felici insomma di queste collaborazioni e quindi sicuramente insomma se ci sarà la possibilità ne saremo insomma molto contenti ecco l'importante che i bambini seguono le vostre indicazioni con entusiasmo assolutamente sì sono un gruppo di bambini molto entusiasti che hanno veramente tanta fantasia e quindi insomma il nostro ruolo di insegnanti è anche quello di far sbocciare la loro fantasia la loro creatività quindi insomma queste sono occasioni molto belle speriamo che diventino dei bravi giocatori di pallacanestro esatto assolutamente sì questi bambini fanno sport sono piccolissimi però immagino di sì prova a chiederglielo ferro Luccio sì fanno sport questi bambini sì alcuni fanno sport alcuni fanno judo altri basket e alcuni anche calcio sì adesso li vado a chiedere direttamente a loro esatto così vediamo che cosa mi rispondono allora che sport fai? hai fatto prima questo ho fatto io prima uno hai fatto prima questo ah hai fatto prima e prima io ho fatto la palla sì hai fatto la palla tu fai sport? sì cosa fai? giochi a calcio? sì sei bravo? sì bene anche io ho fatto la pancia adesso vediamo che che fa basket allora vedete qua ti piace andare a basket? sì quante volte vai alla settimana? sei volte ma tutti i giorni vai in palestra allora bravissimo facciamo dei giochi facciamo delle controzioni col basket? sì ma tu Nico fai anche nuoto? sì ci vado tanti giorni a delle volte e che cosa fai a nuoto? faccio delle cose bellissime ma che fai a sport? sì bello fare sport vero? sì quando fai sport come ti senti? come sei quando fai sport? sport sport bravo e tu fai sport? no sì come no? sì sì che fai judo tu ah fai judo cintura bianca sarà adesso no no cintura bianca e cintura gialla ah cintura gialla guarda questa bambina come già pratica dei colori del judo allora quando sarà grande bisogna stare attenti eh ma ti chiami? Elena Elena bravo guarda Susanna vedo già il mazzo di fiori sì che sarà depositato che ha il colore giallo anzi viola e giallo il colore dei Lakers la squadra di Kobe Bryant Kobe Bryant con numero 24 con la squadra di Los Angeles ha vinto tutto quello che c'era da vincere perché la vittoria vuol dire un anello al dito e sicuramente Kobe ne ha parecchi di anelli al dito veramente grande emozione quindi in diretta questa cerimonia possiamo tornare dall'assessore Urioni questa cerimonia con cui comunque il comune di Reggio Emilia ricorda il comune di Reggio Emilia non vuole dimenticare questo suo figlio possiamo dirlo che Kobe è un po' figlio anche di Reggio Emilia con questo momento di riflessione Kobe Bryant oltre ad essere Reggio Emilia è anche un figlio è anche un figlio davvero questo lo dicevo prima è un momento anche molto triste in questo ricordo che però noi vogliamo fare perché credo che sia importante ricordarlo anche nell'essere stato parte di questa città e la partecipazione di questi bambini i racconti che hanno fatto dimostra che Kobe Bryant è un Reggiano ed è un Reggiano per sempre sarà un Reggiano per sempre quindi noi ogni anno il 26 di gennaio saremo qui a ricordarlo con un po' di tristezza nel cuore ma sapendo che lui da qualche parte del mondo lui e la sua bimba ci stanno guardando e sono credo contenti di quello che la loro città sta facendo come per il ricordo certamente sentendo i primi bambini e le loro maestre c'è un grande entusiasmo aver dipinto il volto diciamo così di Kobe oppure bellissime anche le parole che hanno scritto sono molto belle molto toccanti e le cose che succedono nelle nostre scuole sono davvero cose magiche dove i nostri bambini ci insegnano tante cose e credo che questa loro vicinanza anche in questa piazza che è stata anche riqualificata in nome di Kobe e grazie anche a questa nuova struttura sportiva che è il Palabigi dimostri come davvero ci siano tante cose che sono proprio al centro della vita dei nostri cittadini a partire da questi bambini che sono voluti essere qui e per essere qui hanno fatto i ritratti hanno studiato la storia di Kobe l'hanno raccontata e ci hanno come sempre emozionato perché quando i bambini ci raccontano le cose ci emozionano sempre un po' e ci danno anche forse una visione diversa del mondo di quello che anche in questa giornata così triste è accaduto e quindi io sono molto contenta perché credo che sia davvero un bel modo per ricordare questo grande atleta reggiano per sempre Sicuramente altre province altre regioni ci invidiano questa avvicinanza di Kobe quando lei si trova in mezzo ad altri assessori dello sport le ho chiedono di Kobe Bryant di Reggio Emilia Beh sì ce lo chiedono devo dire che insomma abbiamo voluto subito intitolargli questa piazza lo abbiamo fatto peraltro in un momento molto difficile per la nostra comunità perché eravamo in piena pandemia ma lo abbiamo voluto fare invitando tantissime persone sono venuti testate da tutto il mondo perché c'è questo riconoscimento insomma questa storia di Kobe Reggiano che ci fa molto piacere però credo davvero che sia una bella storia perché può rilanciare anche l'importanza dello sport dello sport per tutti e dello sport al centro delle comunità quindi abbiamo voluto anche come dire riqualificare questa via via Guasco diventa una strada dedicata allo sport e lo diventa anche grazie a quello che è stata la storia di Kobe in questa città e quindi c'è una storia c'è un passato ma c'è anche un rilancio sul futuro che è quello che credo serva a fare proprio per ricordarlo ma nel ricordarlo non solo in quello che è stato per Reggio Emilia ma in quello che lui e lo sport può fare ancora per Reggio Emilia bene ringraziamo l'assessore allo sport Raffaella Curioni io ripasserei la linea allo studio ringraziando ancora Davide Giudici presidente della federazione italiana di Palacanestro di Reggio Emilia e la pedagoga Rita Lorena Paone se non ci sono domani adesso si la vado a salutare così saluto anche allora bambini un saluto un saluto a Telereggio alzando tutte le bane un saluto ciao ciao